Primo punto fermo della nuova stagione sportiva del Termo presentato questa mattina qui nella sala stampa dello stadio Bonolis. Il nuovo direttore sportivo è Carlo Musa, ex Savoia ed Avellino. Lo ha presentato il presidente Franco Iachini. Sicuramente mi affiancherà sulla parte tecnica e la gestione tecnica. È quella figura che voi indicate come direttore sportivo. È stato uno dei più giovani direttori sportivi a Coverciano, a raggiungere questo titolo. Mi fa piacere aver scelto lui perché vuole segnare un percorso che detti l'indirizzo di quello che dovrà essere quest'anno una squadra, una squadra molto giovane. Per quanto riguarda invece la figura dell'allenatore, il Termo ha già le idee chiare, ovvero Federico Guidi, attuale tecnico della Casertana, sotto contratto però con la società campana fino al 2023. Società campana che è oggetto di esclusione da parte della FIGC per una mancata presentazione corretta appunto della domanda di iscrizione con documenti mancanti. Il Termo ha fatto la sua scelta, Guidi aspetta di sapere che cosa accadrà in casa Casertana il 26 luglio con la pronuncia del collegio di garanzia del CONI e poi dal 28 luglio potrà effettivamente essere l'allenatore del Termo con tutto il suo staff. Altrimenti il Termo dovrà cercare un altro allenatore. Eh certo, se dovesse andare bene per la Casertana noi dobbiamo, il problema è nostro, dobbiamo trovare un altro allenatore. Di certo non glielo sto augurando che lui non venga ripiescato per l'amore di Dio, assolutamente, anzi no, io gli faccio gli auguri perché comunque una persona ci si sarebbe potuto trovare chiunque al suo posto. Quindi non glielo auguro di certo questo problema. Si sono affrontati anche vari discorsi, vari argomenti, il più importante è quello dei giocatori in uscita del Termo di cui si sta occupando proprio il massimo dirigente Biancorosso, ovvero le trattative per Cianci, Diachite, Piacentini e Santoro. Le trattative le faccio direttamente io. Teramo vende se gli conviene vendere. Noi abbiamo oggi per esempio una trattativa su Pietro Cianci, molto importante, ed è la trattativa che si avvicina di più, è quella del Palermo. Per quanto riguarda anche Santoro, adesso aggiungo, anche lui ha avuto diverse richieste e anche lui su una buona, si sta incanando un'ottima trattativa su un'altra squadra di serie B. Partenone? No, Brescia. Quanto riguarda Diachite ci sono richieste da più parti, non nascondo anche quella che avete riportato sui giornali della Ternana, però anche lì Diachite è un prezzo molto pregiato, quindi Diachite credo che quest'anno possa continuare a formarsi nella nostra squadra. Il direttore sportivo Carlo Musa è arrivato appunto nelle scorse ore, sta già comunque iniziando a lavorare sulla rosa, ricordiamoci sono già 15 giocatori sotto contratto per quanto riguarda appunto la squadra bianco-rossa che si ritroveranno qui lunedì prossimo nel pomeriggio allo stadio Bonolis per iniziare le pratiche propedeutiche appunto al raduno e al ritiro precampionato, però si sta già guardando intorno il nuovo DS bianco-rosso. C'è tanto da lavorare perché comunque sono una rosa che avendo in scadenza dei calciatori quindi in questo momento c'è bisogno di inserire delle forze nuove. Come ha detto il presidente punteremo molto su un progetto giovane ma non è che deve passare l'idea di un Teramo che va a smobilitare o a fare cose negative perché comunque ci sono stati esempi di squadre giovani che hanno fatto dei grandi risultati.